Ciao a tutti e bentornati in Tessila News Quante volte vi è capitato di realizzare un maglioncino oppure un poncho o una sciarpa? Lo avete visto, avete detto carino, però manca qualcosa Ebbene, quest'oggi vi proporremo un filato che darà un tocco di eleganza, raffinatezza, brio, morbidosità e soprattutto fascino alle vostre creazioni Stiamo parlando dell'Areta Slim, analizziamo nel dettaglio Eccola la nostra Areta Slim, questo filato in rocca con pelo lungo, anzi possiamo definirlo anche lunghissimo, guardate qui Effetto pelliccia, super super morbido Composto per il 100% da poliamide che si presenta così in rocche da 150 grammi per una lunghezza di circa 495 metri Infatti è davvero tanta perché questo filato poi è molto molto sottile Infatti consigliamo l'utilizzo o dei ferri 6.8 oppure dell'uncinetto 3.5 Adatto ovviamente per inserti ed applicazioni grazie soprattutto alle varianti di colore che presenta Questa che vediamo qui è ad esempio la variante Smeraldo Questa che vedete qui invece è la variante Perla Eccola qui, molto chiara Questa che invece vedete qui è la variante Rossa Questa invece è la variante Beige Eccola qui, molto più chiara Questa invece è sicuramente una variante molto più delicata ed è la variante Cipria Qui invece abbiamo un colore molto più scuro che è il nero Qui invece abbiamo un bel blu Ed infine concludiamo con un candidissimo bianco Eccolo qui Un filato davvero particolare Definiamolo così, anche un po' fuori dal comune E nonostante si presenti così Comunque ha tante varianti di colore da poter mixare tra di loro E soprattutto da poter mixare poi con altri filati Poi l'avete visto questo pelo lunghissimo Effetto pelliccia, davvero molto morbido Pensate che nonostante sia così lungo Comunque non rilascia alcun residuo Quindi potrete utilizzarlo davvero in tutta tranquillità E quindi un mix di composizione e di colori Che vi consentiranno di far sì che qualsiasi creazione Che possa essere un maglioncino, un cardigan, una sciarpa, un cappello o un poncho Avranno un tocco di magia in più da indossare Esattamente come alcune creazioni che possiamo già trovare sul canale YouTube Che può essere ad esempio la maglia Irish della Fata Tutto Fare In cui si vede questo connubio di Baby K Unito, Baby K Print e Arreta Slim Davvero una vera chicca O ancora la Arreta Slim ad esempio con un semplice finato in tinta unita Come può essere il Barry Verde Proprio nel cappello Wave sempre della Fata Tutto Fare Barry Verde e Arreta Slim Smeraldo Un tocco di magia anche quello E concludiamo con un altro tutorial Questa volta voliamo in Francia Infatti il tutorial di Kao Con il poncho realizzato E pensate questa volta vediamo una Arreta Slim rosso Con un bel mix di colori Un filato sfumato come può essere l'Ashley Una bomba davvero di esplosione di colori Un filato insomma unico e ripetibile Soprattutto da non perdere Io vi ringrazio come sempre per averci seguito Vi do appuntamento al prossimo articolo Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube E di attivare la campanella Al prossimo articolo Ciao